Disseminazione di idee di informazioni e rindurre attitudini e azioni, metodo pianificato per raggiungere l'obiettivo, filtri fatti ma in modo orgoglio e selettivo, infortuno stai mentendo è solamente una missione, piccola demagogia, solo sale emozionale, il successo sai, necessità di una censura per non svantallarne la fumosa copertura, ma è una mezzogna che non sosterrò mai, non crederemo mai, ci penseremo noi a rovinare la vostra testa, mai, non crederemo mai, se crederemo in noi, e non dire la propaganda Ogni volta parli di libero mercato, ogni volta detti le rigole del gioco, ogni volta dici non si scazza con il fuoco, ogni volta in caso, come quell'altra volta, nuove menzoglie che non sosterrò mai, non crederemo mai, ci penseremo noi a rovinare la vostra testa, mai, non crederemo mai, ci penseremo noi, e non crederemo la propaganda mai, non crederemo mai, ci penseremo noi a rovinare la nostra testa, mai, non crederemo a rovinare la stomunale 0 0 0 0 0 0 0 0 0